Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e continuiamo la nostra carriera con lo Stevenage Signori, piccolo riassunto della situazione, noi siamo in questo momento siamo noni a 3 punti, ottimo, una vittoria e un pareggio Fino ad ora abbiamo fatto solamente 2 giornate di campionato, adesso c'è lo Stevenage, no lo Stevenage siamo noi Contro chi cazzo la giochiamo adesso? Piccola defiance, ho un attimino di confusione in testa Ci abbiamo delle partite vicinissime in questo episodio, 2 partite di campionato e una di coppa Giochiamo contro lo Stockport, ottimo, Fekir a squadra Liverpool presente nel mio acquisto, Fekir, va bene, non ci interessa Signori, a solito c'è una chat, vediamo chi è che vuole parlare, vediamo chi è che rompe le scuole Raid, sta attraversando un buon momento, un periodo di forma, va bene, Raid mio, sarà in campo Sperando che tu riesca a illuminare questa squadra e a continuare la striscia positiva Che ricordo l'ultima partita l'abbiamo vinta Allora, Raid vuole giocare, quindi lo metteremo al posto di Norris Anche se Norris forse è quello che gioca meglio, però va bene, Raid che è un poco stanco Sta rischiando tantissimo a fare questa sostituzione, però va bene Leviamo lui, no, Norris è messo là, va bene, ci abbiamo un pochettino qui I giocatori in panchina sistemati male, però va bene Andiamo a giocare contro lo Stockpoint, signori, ovviamente ci andiamo a giocare tutti i momenti clou Quindi sia attacchi che difese E vediamo un attimino di fare un buon risultato Perché l'obiettivo è salire il più velocemente possibile e costruire una squadra competitiva per la Premier Allora, signori, ci proviamo, ci proviamo, ricordiamo che sono partiti dall'ultima serie inglese Con una squadra, con una stella E quindi non sarà per niente facile Ok, palla nostra, parte la partita, attenzione ai signori Calma, calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Occasione di rosa per lo Stephen Hitch Dai, 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 rivers Rivers, Reeves, 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 non ti fa frega palla Bravo Reeves, che lo vede al centro, bellissimo No, prendi, la prendi, la prendi No, come ho perso palla Dai, ma era un'azione bellissima Al 45esimo, contropiede dello Stockport Manna, hai già il secondo tempo No, no, ancora il primo tempo Recupera, 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 recupera Prendi, la prendi, la prendi, la prendi Grande così, facciamo un'azione contropiede Tira, no, dai, me la dovevi fa fa Stazione, bastardo Al 55esimo, Stephen Hitch, azione non sta Madden Madden, 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 Madden Non c'è a chi passarla, Madden, con calma La gioca lì, con calma, Madden, bravo Lo Stephen Hitch, crea con calma Crea con calma, bravissimo Che cazzo no, bravo Siamo in trattinaria, siamo in trattinaria Attenzione, mi serve il coltello a merda Mi serve il coltello a merda No, era passata Era passata, era passata quella palla Mannaggia a loro 61esimo, ancora azione per noi Crossdale Crossdale Attenzione Davanti alla difesa Crossdale, vede il compagno di squadra Quasi libero Che però Attenzione, attenzione Mamma mia Come abbiamo tenuto sta palla Attenzione per lì No, dai Gli la dovevi dare giusta Gli la dovevi dare giusta Gli la dovevi dare giusta Occasione a loro al 75esimo Ma porca miseria Quanto stiamo sbagliando Occasione a loro al 75esimo Attenzione Fermiamoli, 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 fermiamoli Bravissimo Spazzala Non mi dico è finita perché mi entrava Il 76esimo Ancora occasione a loro Abbiamo avuto due occasioni buone Mannaggia E noi ci siamo riusciti A gestire bene Dai, dai, dai Leva, dai, leva, dai Leva, dai, leva, dai Bravissimo così Bravissimo, bravissimo Ancora loro Che paranoie Che paranoie Porca miseria No, 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 no Uccidilo Bravissimo Pallore che viene Pallore che viene Pallore che viene Pallore, portiero Grande portiere Bravo Chapman E' finita 0-0 Abbiamo avuto due occasioni buone Per cercare di disegnare E invece inizio E ci portiamo a casa un punticino Un punticino che è inutile Perché dico dovremmo Iniziare a fare punti importanti In altre squadre Già Se non è Qualcuno ha 9 punti Ce ne sarà sicuro Che avrà fatto 3 vittorie su 3 Siamo lenti a carburare Siamo lenti a carburare Non abbiamo una buona squadra Chi è che vuole parlare Che sarà Raid Eh infatti L'ingrazione è andata in cambio Ha prestazionato Raid Non è fatto un cacchio Raid Però va bene Ti elogiamo così Manteniamo un buon Un buon Una buona Mentalità Di squadra Ora giochiamo contro Il North Timetown North Timetown Sì Chi ha 3 punti North Timetown Noi abbiamo la squadra Metà squadra distrutta Allora List e Norris Ok Smith è leggermente stanco Chi può giocare Bostic o Tinubu Tinubu Eh Può giocare Bostic Dai anche se non ci sta giocare No Non ci sta giocare proprio lì Eh Tinubu Tinubu Magari ci riesce Un po' che ci riesce In difesa Due difensori Sono morti Completamente Sono lessi Quindi giocano O giocano West E Piergianni Mateju Dovremmo avercelo Wilding Wilding E Gallardo Forse ce l'abbiamo pure E gioca Clark Va bene Proviamo così Signor Giustamente dobbiamo fargli giocare a tutti Quindi È giusto fare anche delle sostituzioni Spero il più possibile Che dalla primavera arrivi qualcuno di interessante Qualcuno che ci svolti pesantemente La stagione O anche a gennaio comunque dovremmo intervenire un po' sul mercato A gennaio dovremmo intervenire un pochino sul mercato Dai 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 Qui dobbiamo portarci a casa i tre punti Siamo a casa nostra Dobbiamo per forza portarci a casa i tre punti Un saluto 0-0 Northampton in attacco Difendiamoci Piergianni Dai P.E. Dai P.E. Dai P.E. Dai P.E. Mannaggia Clark Clark Kent Il nostro Clark Kent Il nostro Clark Kent Era lentamente fallo Perché non abbiamo preso mai la palla nella vita Però ce ne freghiamo Va bene così Tinubu Vai Tinubu Azione nostra Tinubu La stoppa malissimo Però va bene Lui ci crede Bravissimo Reed Bravissimo Reed Che vede Revers sulla fascia Revers sulla fascia Entri in aria Entri in aria Revers Entri in aria Revers Vede il compagno Tirala 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 Ma stiamo scherzando Dai Non ci posso credere Non ci posso credere Ancora Revers Parla per noi Sulla fascia destra Dai Revers Dai Revers Chi accelera Grande Revers Grande Revers Grande Revers Fa fuori i due sterni Ancora al centro dell'aria Revers 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 Cerca il compagno Che cos'è Revers 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 Ma perché Non sanno Fare un passaggio Perché non sanno Fare un passaggio Calcio d'angolo Per loro al 33esimo Non riusciamo a fare Un passaggio giusto Uno 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 Non ci riusciamo a farlo Palla giocata lì Attenzione Attenzione Ancora Mamma mia Che piedi storti Attenzione Palla nostra Roberts Sulla fascia sinistra Roberts Non c'è nessuno al centro Roberts Roberts Si ferma Roberts Roberts Cerca il compagno Roberts Roberts Non è più Roberts Norris Norris Vende il movimento Dai così Stephen A In vantaggio 1 a 0 Dai Con il nostro Revers L'uomo dal continuo d'oro Revers Vanno indietro Invece di continuare Andare in attacco Sono andati indietro Bene Bravi Bravissimi Hanno fatto tutto loro Non abbiamo fatto nulla noi Però va bene Attenzione ancora Revers No Non voglio Revers Revers è troppo lontano Voglio 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 Pier Gianni Che lo manda in fuori Porca miseria Porca caccia Grande Chapman Chapman Salva la situazione Ancora No in contropiede Occasione per lo Stevens Con Roberts Sulla faccia sinistra Attenzione Roberts Si ferma Rallenta Vede il compagno Al centro dell'aria Attenzione 1-2 Bellissimo Lo stop Mamma mia Che cosa ha preso Tinobu Ha sbagliato di pochissimo Al 78 Palla loro Attenzione Contropiede Come siamo Siamo piazzati Malissimo Però c'è Grandissimo Recupero difensivo Grandissimo Recupero difensivo Calcio d'angono Ancora loro Al 82 Sto soffrire Ragazzi Che mi può spuntare L'1-1 Da un momento all'altro Senza che per forza Lo giochiamo noi Attenzione Palla sul calcio d'angolo Gli sbatte in faccia Va bene così Dai 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 Fuori 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 No 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 Piglialo E piglialo Mannaggia Mannaggia Cioppumana Grande Cioppumana Tinila lì Tinila lì All'82 Ancora loro Mamma mia Il personaggio C'ha qualche problema Palla fuori Palla fuori Va bene così Buttala fuori Tinubu Tinubu Mannaggia Tinubu mio Mannaggia Grande Tinubu No ancora loro Calcio d'angolo Ancora loro 85 Stanno a fare tutto loro Non riusciamo a uscire Signori Non riusciamo a uscire Niente Deve essere pareggiata Per forza Questa partita La partita Deve finire Per forza 1-1 Per forza Dai guarda Grandissimo Fuori sta palla Grande Tinubu Che la spazza via Grande Tinubu Che la spazza via È finita È finita Ci portiamo 3 punti A casa Così Dai 3 punti importanti Continua la serie positiva Dai 4 punti in 2 partite 4 punti in 2 partite È buono Buono Dai Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo È andata bene È andata bene È andata bene Partitonza di coppa Partitonza di coppa Pronti Carichi Come se non ci fosse un domani Vediamo la classifica Ma fa vedere No Non mi fa vedere la classifica Mannaggia Avanziamo Partita di coppa Contro Il Barrow Ce l'abbiamo in coppa E poi ce l'abbiamo anche In campionato Turno 1 Carabocup Carabocup Va bene Come abbiamo la squadra Un po' stanca E allora Andiamo un attimino A gestirla Allora Norris è stanco Fuori per Diamo fiducia a Ruse Questa volta Raid All'altra volta Andiamo un pochino Scioccato Raid Esce per Bostic A Bostic Vediamo un attimino Se ti posso Mettere un pochino Più qua indietro E ti faccio fare Cdc Bostic Mio Dai Qui ti piace A Bostic Ah non è che ti posso Fa giocare Mi servi comunque A Bostic Mio E più di questo Non ti posso Non rompere scatole Poi Chi c'è stanco Chi c'è stanco Nessuno La squadra L'abbiamo recuperata Va bene Abbiamo messo Bostic Un pochino Più indietro Che è a meno Sette Pesante Però Il nostro Colla Bostic Farà L'aggiunzione giusta Fra difesa E centrocampo Vedete che Non ci farà Pendire di averlo messo Leggermente più indietro In quella posizione Un po' più arretrata Il nostro Bostic Mamma mia Che squadra Che c'ho Mamma mia Che squadra Che c'ho Però va bene Partita di Coppa Carabao Cup Secondo turno Bellissima giornata Dai signori Dobbiamo andare avanti Dobbiamo andare avanti Dobbiamo farci conoscere Dobbiamo farci conoscere Occasione per lo Stevenage Buono Al dodicesimo Che cazzo L'occasione è Che paziente Sono tutti Fe Fe Sono tutti piazzati Le cazzo di occasione Bello Bello Ti sei liberato Ti sei liberato Sfondalo Sfondalo No Madonna mia Madonna mia Rigore Ventesimo Carabao Cup Gallardo Perché lo tira Gallardo Non si sa Gallardo 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 La carica centrale Portiero ingannato De 1 a 0 Al diciannoesimo Gallardo Che poi fa la danza Mamma mia Non so da dove sia Mi sta riuscendo Una danza Maori Ma non so Niente Lui Di che in azione Sia Quindi però Va bene Attenzione Controviete del Barrow Che ripartono dalla propria area Palla A metà campo Attenzione Vediamo se lo Stevenage Riuscirà a intercettare subito Questo tentativo A palla al centro campo Bellissimo L'anticipo E viene spazzata via la palla Attenzione Al 49esimo Secondo tempo 1 contro 1 Contro piede Dello Stevenage Rose 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 Vediamo se riuscirà Rose 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 Lento Come poche cose al mondo Rose Taglia tutti fuori Rose No Con la mano di richiamo Il portiere Salva situazione Al 74esimo Contro piede ancora Dello Stevenage Parla per Smith Che la stoppa malissimo Smith vede List List si è costretta a fermarsi List è chiuso List, List Vede Roberts Che se ne va sulla fascia sinistra Accelazione di Roberts Che è lento Con un calesse Roberts, Roberts, Roberts Cerca il fondo Roberts, Roberts, Roberts Arriva al fondo Si ferma Al limite dell'aria Vede il compagno Messo meglio Attenzione 1-2 Velocissimo Bellissimo Ha trovato l'angolino 2-0 Dello Stevenage Rose Lo segna lui Gli abbiamo dato fiducia E ci ha ripagati Bravo Rose Sono contento Sono contento Ne Gli abbiamo dato fiducia E ci ha ripagato 2-0 E finisce così Secondo turno di Caravoc Portato a casa Bello Bello 2-0 Importante Importante Non Niente da dire Corso di rigore E poi un bel contropiede Con una serie di passaggi Portato a casa Va bene Va bene Mi è piaciuto Mi è piaciuto Questa Questa situazione Questa situazione Mi è piaciuto Avantiamo signore Per arrivare fino alla prossima partita Che è in campionato nuovamente Contro il Barov Che però Ci andremo a giocare Nella prossima giornata Nella prossima giornata Nel prossimo video Voglio semplicemente Arrivare qui Leggere il messaggio Che dice Giocatori impegnati Con la nazionale Mattei U Con la Repubblica Ceca L'unico giocatore Convocato Ottimo In classifica Siamo a Siamo settimi Con sette punti Buono Buono Siamo in zona playoff E quello è l'obiettivo Signori L'obiettivo è Minimo Sono i playoff Sette punti Primo Prima e secondo Ci sono il Bradford E il Walsall A dieci punti Quindi siamo a tre punti Signora Dalla promozione diretta Dopo quattro giornate Non è male Non è male Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i sugeniti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao